Musica Liberi.tv Riccardo Cristiano, siamo a Cleto per l'inaugurazione del castello di Savuto in compagnia dello staff che si sta occupando diciamo di accogliere gli ospiti al meglio infatti abbiamo visto che già da pomeriggio erano sistemati proprio qui e diciamo come è stata questa organizzazione? Da cosa è nato tutto? È nato da un'iniziativa presa da un gruppo di persone di Cleto, abbiamo sostenuto l'amministrazione che ha fortemente voluto questa inaugurazione di questo castello in quanto abbiamo un altro castello pure a Cleto ma questa volta è stato dirottato su Savuto perché il ripristino del castello meritava del 110 e lode e quindi abbiamo voluto sostenere fermamente l'amministrazione e tutta la cittadinanza del borgo di Savuto. Tra l'altro possiamo anche dire come dicevi appunto ci sono due castelli a Cleto, questo è un castello militare l'altro invece è un castello civile ed è un modo anche di valorizzare il territorio, portare il lavoro perché se ne parla sempre visto che la Calabria in questo caso soprattutto Cleto è in un punto invidiabile perché è a 10 minuti dal mare, in collina, circondati da uliveti, bella gente, bellissima gente, cibo ottimo e per quanto riguarda i castelli sì questo è il castello che difendeva, era la fortezza di Cleto mentre Cleto era il castello vero e proprio del feudo e diciamo che è appartenuta per la prima volta, credo di non sbagliarmi, era Cleta una regina mazzone. Allora sì sono la storia perché praticamente... Allora Cleta era la nutrice di un amazzo, della Dea delle Amazzoni, sono da poco cletese però sto studiando la storia. Ancora la dobbiamo studiare bene però sì questa era la roccaforte che difendeva il paese di Cleto, il borgo di Savuto. Quindi se doveste invitare le persone a venire qui a Cleto come lo fareste? Cioè quali sono le principali caratteristiche di Cleto? Perché Cleto è accogliente prima di tutto? L'ospitalità, la gente, amiamo la gente, amiamo i popoli che arrivano da ogni parte, ci piace ospitare le persone e soprattutto il cibo è buono, l'aria è buona, abbiamo il mare, c'è di tutto, Cleto offre tutto, non manca nulla. Non posso dirvi l'odore, il profumo che sento in questo momento ma scopriamo qualcosa, adesso ce lo farà vedere Marco che è lì che sta girando, ecco queste come si chiamano? I Cuggiurieggi. I Cuggiurieggi, no è vero si chiamano Cuggiurieggi, è giusto? E poi abbiamo la nostra famosissima celetta che è da quel lato. La celetta che sarebbe un pane. Il pane faccio nel forno a legna in modo antico e poi viene contito con del origano, aglio, sale e olio, però poi ci sono anche le alternative, l'anduglia, la famosa anduglia si può mettere dentro o i famosi nuetzuli che sarebbe il grasso ridotto della maiale. Qualunque cosa si voglia mettere dentro è tutto salutare, è fatto in casa, questo offre Cleto, Cleto offre tradizione, cultura, voglia di vivere, voglia di stare bene, quindi venite a Cleto? Venite, venite a trovarci e rimarrete sorpresi di quello che trovate e dell'agenda che trovate. Io l'ho adottata, a me ha adottato Cleto, non sono di Cleto, però Cleto mi ha adottata, me ne sono innamorata, sono fuggita dalla città, sono venuta in questo paradiso e credetemi, veramente è un paradiso. Grazie. 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 Grazie.